Buonasera a tutti e benvenuti all'incontro di oggi, Siena-Atalanta, la formazione del Siena con il numero 10. Un saluto da Fabio Carissa e Beppe Bergomi e benvenuti alla gara di oggi, speriamo di assistere a un incontro emozionante. Qual è il tuo pronostico per la gara di oggi Beppe? Difficile scegliere un vincitore, le due squadre si equivalgono sulla carta. Grazie a tutti! L'arbitro si consulta con i suoi collaboratori e dà il via alla partita. Un contrasto davvero vigoroso. Peluso. Buonaventura. Passa la palla. Parte il tiro! Palla ribattuta ma ancora in gioco. Buonaventura. Rimessa da buona posizione, devono cercare di sfruttarla. Passaggio a buon fine. Si fa rubare palla. Reginaldo. Brienza. Angelo. E' quasi a distanza di tiro. Prova a stoppargli palla. Del grosso. Trova il compagno. E' entrato con successo sull'avversario. Teckel preciso ed efficace. Dennis. Palla persa. Buonaventura. Simone Padoin. Bellini. Ottimo contrasto e adesso può provare a ripartire. Strappano la palla agli avversari. Simone Padoin. Passaggio riuscito. Capiscono tutto. Si riparte. Terzi. Bolzoni. Mannini. Gaetano D'Agostino. Calaio. Palla al compagno. Si libera del difensore. La palla è uscita. Corner. Con la testa. Fuori. Che occasione. Manfredini. Lucchini. Simone Padoin. e viene prontamente segnalato il fuorigioco. Bolzoni. Simone Padoin. Buonaventura. Buonaventura. Hanno aperto in due la difesa. La palla è ancora in gioco. Palla che esce. Peluso. Si fa sotto. E l'arbitro fischia. Sì. Caccia di rigore. Attenzione. Regore trasformato senza esitazioni. Sì. Ha calciato con sicurezza. Brienza. Reginaldo. Brienza. Buonaventura. Dennis. Ci saranno due minuti di video. Due minuti. Lucchini. Andrea Consigli. Manfredini. Simone Padoin. Dennis. E finisce il primo tempo. Quali sono le tue sensazioni dopo il primo tempo? Stanno vincendo in virtù di un calcio di rigore. Quindi hanno avuto anche un pizzico di fortuna. Ma non ci sono dubbi che l'arbitro abbia preso la decisione corretta. Non ci sono dubbi che l'arbitro abbia preso la decisione corretta. Non ci sono dubbi che l'arbitro abbia preso la decisione corretta. Comincia ora la seconda frazione di gioco. Peluso. Stanno riuscendo a eseguire passaggi precisi. Raggiunge il compagno. Splendido intervento. Bolsoni. Brienza. Buonaventura. Simone Padoin. La squadra avversaria riconquista palla. Grande intervento che sventa un'azione rischiosissima. Palla agli avversari. Carmona. Reginaldo. Bolsoni. Del Grosso. Carambola e palla che termina fuori. Rimessa con le mani da posizione favorevole. Forse con il nuovo assetto potranno impensierire gli avversari. Schelotto. Cross che va a vuoto. Palla alla difesa. Cala io. E perdono il possesso. Carmona. Simone Padoin. Carmona. E' un lavoratore infaticabile. Sviluppano il gioco. E sulla fascia riconquista il pallone. Angelo. Angelo. Hanno una buona occasione con questa rimessa. Entrambe le formazioni fanno degli aggiustamenti. E possono davvero tirare un sospiro di sollievo. Brighi. Dennis. Non passa. Perdono palla. Schelotto. Brighi. Intervento pulito. Fa solo la palla sulla fascia. Destro. Splendido movimento senza palla del compagno. Possono tirare un sospiro di sollievo. Brighi. Dennis. Marilungo. Attenzione. Palla in avanti. Cross sbagliato. E palla riconquistata dagli avversari. Palla che esce. Rimessa laterale. L'allenatore non voleva lasciare nulla di intentato. La sostituzione è quella che si vuole per ravvivare la squadra demoralizzata dallo svantaggio. Schelotto. Peluso. Palla al compagno. Gran palla. Che ne faranno? Ottimo contrasto. Tenta. Bella parata. Non vuole fargli fare la doppietta. Passaggio troppo prevedibile. Ancora pochi minuti da giocare in questa partita combattutissima. Ci sarà un minuto di recupero. Attenzione solo. Hanno una possibilità di chiudere definitivamente l'incontro se battono bene questo corner. Questo cambio non è di certo un provenimento nei confronti del giocatore sostituito. Ecco che tenta il tiro. Intercetta la conclusione. Mannini. E finisce la partita sul punteggio di 1-0. Anche se sono un amichevole questa vittoria servirà comunque per il loro morale. Certamente sì Fabio. Vincere fa sempre bene. Partita interessante. Ciao a tutti da Fabio Caressa. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Buongiorno a tutti. Grazie a tutti.